Ciao a tutti, dopo 4 mesi qui a Kununurra volevo fare un breve video riassuntivo e soprattutto insomma spiegare quello che è per me la vita del viaggiatore qui a Kununurra Ah di co, stai là che ti va a parlare di moi? Sì, aspetta un attimo, stavo parlando, poi dopo è il prossimo che avrei tirato in causa Ah stai là, se tu parli di voyage, se tu parli di Kununurra, c'è il prossimo a moi che ti va a parlare perché c'è la maison e i tuoi colleghi si vengono di francese Sì, aspetta un attimo, poi intervieni tu, ok? Dunque ti seguo, no? Sì, la vita da Kununurra, l'Australia soprattutto insomma è stato veramente qualcosa di rivoluzionario rispetto all'Italia però insomma mi sono confrontato con diverse realtà, con diverse lingue Sorry, sorry If you are speaking about other languages, it's me that I have to take Sì, aspetta un attimo, e poi intervieni tu Stavo facendo un breve resoconto sulla... una prefazione Oh the next is this the next? Sì, il prossimo a parlare sei tu, ok? Stavo facendo un breve resoconto sulla... una prefazione Aspetta, ok? Un per volta Stavo facendo un attimo Tu, ok, va bene Il prossimo a parlare sei tu Sorry, no, I don't understand why It's the next, not me I'm more important than him I'm more useful than him You know, in Australia In more than in other country Me, I'm the first language to be spoken Ok, ok? Sì, aspetta un attimo, per favore No, mi conosco No, 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 no 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 Allora Basta che Il finisce che rimarão Per favore Per favore Calma Ok Tu Hai il diritto A parlare per prossimo E tu Hai il diritto A rispondere Un minuto A testa Puoi iniziare I can't understand why He is more important than me In your opinion I have the most important word In the world The most important language In the world I can't understand why He always has been More important than me In your In your In your Education He is more important than me He is more important than me He is more important than me You know why Because I am more beautiful than my language I am 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 I can understand your opinion and I can share your idea that I'm not as romantic as you in the speech, but you have to share with me my speech, that I am useful, I am more useful than you traveling around the world, ok? Ok? I'm not speaking with you, I'm speaking with you, I'm speaking with you! Ok? D'accord. Mais du coup tu, tu veux me dire que par contre moi j'suis, j'suis plus beau à parler? Ok. D'accord, ok. Ah, et finit, non? Eh, è stato dur, eh? Ascolta! Si? Dimmi pure. Puoi seguire il fianco a te? Certo, vieni pure. E' meglio capire che devo andare a voyager, devo andare a piacere. Aspetta, mergo. Devo andare a piacere e di imparare le altre lingue, di scorrere le altre lingue. Per favore, vieni a definire il manga perché è un po' importante anche a me, la tua vita, o no? Si, non preoccuparvi, faremo in modo di non dimenticarvi. Scusa, vado a Star Bank e poi c'è... C'è anche a te? Certo, nessun problema. Era della vita ma c'è... Certo, non lavora OSCORTS ase… La Teresa è importante кажcare magse 그걸 chiare fri muscolata… Va啊! Ok so nel Buscoидori lo stai facendo di! Ora voglio ci chawere i miglagy, vèi un asunto dicodone il filo delгine. Grazie a tutti